Oggi con Blender vedremo come iniziare a creare un rig di un veicolo che poi importeremo all'interno di un game engine e utilizzeremo come oggetto di scena controllabile dai giocatori. Per fare ciò iniziamo subito creando una nuova collection all'interno della quale andremo a posizionare tutte le ossa che utilizzeremo per controllare il veicolo. Quindi facciamo new collection e la chiamiamo collection ossa. A questo punto assicuriamoci che il pivot sia posizionato all'interno della scena e aggiungiamo una nuova armatura. Quindi facciamo shift A e diamo single bone. In questo modo abbiamo creato un osso al centro della scena. A questo punto nascondiamo gli oggetti che non ci interessano e creiamo le nuove ossa per le ruote. Entriamo nella modalità edit mode dell'armatura e estrudiamo l'estremità del root bone di uno sull'asse Z. A questo punto dato che le ruote devono essere dei child rispetto al parent bone della root del nostro veicolo schiacciamo Y che è la shortcut per separare l'osso in modo da poterlo spostare. Duplichiamo ora l'osso appena creato con lo shortcut shift D. Ho realizzato quattro ossa perché andranno a interagire con le quattro ruote di riferimento. A questo punto è davvero molto importante dare una sorta di gerarchia alla nomenclatura delle ossa. Ad esempio l'osso principale io lo chiamo di solito root bone. Comunque è il motore di rendering o il game engine di riferimento che volete utilizzare che detta legge in questo scenario. A questo punto rinominate così come ho fatto io anche tutte le altre ruote. Come lascia intuire il nome, la root è l'osso principale dal quale derivano tutte le altre ossature. Per questo motivo è necessario connettere le quattro ossa appena create all'osso principale. Quindi le selezioniamo tutte in ordine e selezioniamo il root bone per ultimo e clicchiamo CTRL P. In questo modo ci comparirà il pannellino di legame, il make parent, e possiamo scegliere di realizzare un legame mantenendo l'offset creato oppure connettendo le estremità con la coda. Ovviamente dato che le ossa delle ruote non sono connesse punta coda con il root bone, scegliamo l'opzione keep offset. Come potete vedere si è creato questo tratteggio che unisce la punta del root bone alla coda delle varie ossature delle ruote. A questo punto la buona pratica suggerisce di far comparire degli empty, che sono sostanzialmente dei riferimenti geometrici, in corrispondenza dell'asse delle ruote. Vedete che io ho realizzato questi quattro empty sulle quattro ruote. A questo punto quello che devo andare a fare è selezionare le varie ossa e posizionarle con la coda nella posizione dell'empty. Per fare ciò seleziono un empty e utilizzo il comando di posizionamento del pivot, richiamabile con la shortcut SHIFT-S. Utilizzo cursor to selected e come potete vedere a questo punto il pivot si è posizionato in corrispondenza dell'empty. A questo punto vado a selezionare la ruota che corrisponde alla posizione del pivot e posiziono l'osso in quella posizione. Per fare ciò entro nella modalità edit mode, seleziono la ruota corrispondente, quindi ad esempio la ruota anteriore destra, faccio ancora SHIFT-S e questa volta faccio SELECTION to cursor. In questo modo, come potete vedere, l'osso si è posizionato. Selezionate tutte e quattro le ossa potete scegliere la rotazione. Questa scelta di solito è influenzata dal game engine, ma potete tranquillamente adottare la vostra convenzione, a patto di mantenere lo stesso tipo di rotazione su tutte le ruote. Ad esempio, con il mio programma potrei avere la necessità di ruotarle tutte lungo l'asse X. Per fare ciò, vi consiglio di utilizzare la rotazione attorno al pivot, posizionandolo correttamente, e dare una rotazione ad esempio di meno 90 gradi sull'asse X. A questo punto facciamo ricomparire l'insieme dei nostri oggetti e andremo ad assegnare tutti questi oggetti ai relativi ossi. Il corpo principale del nostro veicolo sarà certamente influenzato dal root bone. Per questo motivo andiamo all'interno del pannellino vertex group e creiamo un assieme di vertici che andremo ad assegnare al root bone. Aggiungiamo quindi un vertex group al body del nostro veicolo. Clicchiamo sul più, entriamo nella modalità edit mode, selezioniamo tutti i vertici del nostro veicolo e andiamo a dare assign. A questo punto andiamo a dare a questo vertex group il nome dell'osso che vogliamo avere come riferimento, quindi lo chiamiamo root bone. E salviamo. Se abbiamo fatto le cose correttamente, selezionando il vertex group root bone e cliccando select, dovremo vedere tutti i vertici del nostro body selezionati. Effettuiamo la stessa procedura anche per le ruote, stando però attenti di dare il nome dell'osso di riferimento al vertex group. Quindi ad esempio in questo caso la ruota è quella posteriore sinistra, pertanto andrò a creare un vertex group chiamato ruota underscore posteriore sinistra. E vado a dare assign. A questo punto, per maggiore praticità, vi consiglio di unire tutti gli oggetti in scena. Attenzione perché questo step può cambiare da game engine a game engine. Per unire tutto, premiamo A, vedete che tutti gli oggetti sono selezionati e diamo ctrl J. Se avete fatto le cose correttamente, entrando nella edit mode e selezionando i vertici assegnati al vertex group, dovreste essere in grado di selezionare i singoli elementi. Come potete vedere, selezionando ruota anteriore destra, mi compaiono solo i vertici della ruota anteriore destra. Vi prego di notare che le sospensioni saranno argomento di video successivi. Adesso imparentiamo il veicolo con l'armatura. In questo modo l'armatura sarà in grado di controllare la posizione e la rotazione dei singoli elementi dell'oggetto. Quindi schiacciamo ctrl P e diamo armature deform. Notate che di default Blender ci permetterebbe di creare in automatico i vertex group, però di solito non funziona benissimo. Noi invece li abbiamo creati manualmente e siamo sicuri del risultato, quindi armature deform. Ah, notate anche che prima dovete selezionare l'oggetto e poi l'armatura. A questo punto, se andate in pose mode dopo aver selezionato l'armatura, muovendo un osso dovreste essere in grado di trascinarvi dietro anche il relativo vertex group. Adesso l'oggetto è effettivamente pronto per l'export e l'import all'interno di un game engine di vostra scelta. Vi consiglio di vedere i prossimi video che tratteranno questo argomento.